Il Price, leader italiano dell'e-commerce, dal 2000 ad oggi è specializzato nella commercializzazione e distribuzione di prodotti legati al mondo digitale della famiglia e della casa. L'azienda possiede un network di 133 pick-and-pay, punti di ritiro fisici dove è possibile ritirare e pagare i prodotti acquistati online. Inoltre nel corso degli anni ha sviluppato una piattaforma marketplace aperta a venditori esterni. Il Price è l'unico retailer online puro ad offrire una gamma di prodotti che vanno da high-tech agli elettrodomestici di piccole e di grandi dimensioni, distribuendo i principali marchi a livello mondiale per una quota di mercato che si assesta intorno al 30%. La struttura è suddivisa al suo interno in tre comparti. Nei primi due, dove è installato un impianto d'automazione, vengono lavorati prodotti di piccole dimensioni e la merce ordinata sul venduto, che in generale entra ed esce nel giro di poche ore. I grandi elettrodomestici sono invece stoccati a terra nel terzo settore della struttura. La rotazione media per queste tipologie di prodotti è di 30 giorni, che per il mondo e-commerce è decisamente un tempo medio-lungo. Il mercato digitale del bianco è complesso da gestire sotto molti punti di vista. Dobbiamo garantire velocità di consegna, ma allo stesso tempo che i prodotti escano da nostro impianto sempre in perfette condizioni. Qui il reso è assolutamente da scongiurare. Rappresenta un disagio per il cliente ed è un posto importante per noi e va necessariamente minimizzato. Il primo punto su cui lavorare è la logistica, partendo dalle delicate fasi di movimentazione della merce all'interno del nostro magazzino. Volevamo veicoli di ultima generazione, per poter contare su prestazioni migliori, continuità operativa e tempi di consegna decisamente contenuti, per rendere operativo un nuovo magazzino. In appena un mese dall'ordine abbiamo ricevuto la frenatura completa, che comprende 34 veicoli di ultima generazione, in grado di garantire efficienza e massima sicurezza a persone e cose presenti nella struttura. Un fattore determinante è stato lo speciale allestimento dei carrelli, che fanno un lavoro più pesante, movimentando i grandi elettrodomestici. I carrelli sono stati pipaggiati con una speciale pinza, che può agganciare, sollevare e spostare fino ad otto lavatrici contemporaneamente. L'attrezzatura è anche dotata di un sistema che consente di regolare la pressione, secondo quattro distinti livelli di intensità, permettendo così di adattarla velocemente a diverse tipologie di impiego e quindi di sfruttare al massimo il veicolo. Per poter avere livelli crescenti di efficienza e maggiore garanzia di sicurezza, tutti i carrelli sono stati pipaggiati in prima installazione con Blue Light. Questo speciale dispositivo si attiva automaticamente quando il mezzo su cui è installato è movimento e, pogliettando a terra un fascio di luce blu, ne segnala l'avvicinamento, elevando il livello di sicurezza in aree in cui c'è promiscuità tra uomini e mezzi. Grazie a Toyota abbiamo scelto di utilizzare carica batteria ad alta frequenza, che garantiscono con una ricarica completa un utilizzo per un intero ciclo continuativo di almeno otto ore. L'utilizzo di mezzi più moderni ed efficienti ci ha permesso di prolungare i turni di lavoro senza aumentare la flotta e quindi il personale operativo all'interno dell'impianto. Finora la convenienza si è sembrata enorme, sia dal punto di vista dei costi di manutenzione, della prevenzione e dell'efficienza operativa. È questa la chiave per mantenere alto il nostro livello di servizio e la collaborazione con Toyota è uno di questi fattori.